Amici appassionati di batteria, buonasera e devo dire che sono molto commossa in quanto mi avete chiesto un altro brano da eseguire con la mia batteria. In questo momento diciamo che non sono proprio degli orari da batteria e quindi comporò un brano un po' meno fracassone di quello dell'altra volta. Comunque spero che vi risulti gradito, ascoltatelo bene, aguzzate le orecchie. A presto Spero che questa composizione molto melodica vi sia piaciuta e vi rimando al mio prossimo concerto, vi prometto che farò tantissime altre composizioni di batteria udibili al vostro orecchio. Buona serata!